C'è un terzetto in testa alla classifica del girone A del campionato di eccellenza dopo due giornate di campionato. Acragas, Cus Palermo e Sciacca sono a punteggio pieno, non ha giocato la Nissa. La partita con l'Oratorio San Ciro e Giorgio è stata rinviata a mercoledì 21 per l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli con l'accordo tra le due società. I biancoscudati torneranno in campo domenica all'esseneto di Agrigento contro l'Acragas. Ieri gli acragantini hanno conquistato il secondo successo di fila sul difficile campo di Mazzara, 1-0-4 senza attenuanti per la squadra di casa. In golla Monsur, Baio, Pavisic e Vitelli, un derby molto sentito, quello tra le massime espressioni calcistiche dei due capoluoghi fin dai tempi in cui le protagoniste erano la Nissa e l'Agrigento negli anni 30 del secolo scorso. Gli altri risultati, GLFC sconfitto in trasferta dalla Cus Palermo con un parentorio 4-2, reti bianche 0-0 e il match tra Don Carlo Misilmeri e Mazzarese. Prima vittoria per l'Enna tra le Mura Amiche contro il Castellammare 3-1, Profavara Corsaro 0-1 sul campo del Resuttana San Lorenzo. Seconda vittoria dello Sciacca sul Casteldaccia 3-1. Né vinti né vincitori tra Leonfortese e Parmonval 0-0. La classifica, Acragas, Cus Palermo e Sciacca 6 punti, Enna, Don Carlo Misilmeri e Parmonval 4, Casteldaccia e Profavara 3, Mazzarese 2, Brattorio, San Ciro e Giorgio, Mazzare e Leonfortese 1. Chiudono a 0 punti Resuttana San Lorenzo, Nissa e Castellammare.